Musica Nella solennità di Pentecoste la chiesa di Chiavari ha ricevuto il dono di un nuovo sacerdote, Alessandro Cavallo di Rapallo, la cattedrale gremita di tanti amici. Annunciate le nomine di nuovi parroci per la Fontana Buona, Don Gattorna, Parroquacicani e Dezzerega, a Don Bizimana le comunità di Aveggio, Certeno, Liromaggi, Coreglia e Canevale, Serra affidata a Don Perazzo. Tutti possono aiutare la cattedrale, incontro con enti ed istituzioni per sensibilizzare il territorio in vista degli urgenti lavori di consolidamento della struttura. Festa di Sant'Antonio da Padova al Santuario di Chiavari, maestro di fede Antonio ci insegna che l'uomo cerca la pace e la trova in Dio, ha spiegato il Vescovo Monsignor Tanasini. L'arte contemporanea è in dialogo con la storia, inaugurata la Basilica dei Fieschi, preludio, esposizione delle opere di Esther Pasqualoni, a settembre nuove installazioni sul monte di Portofino. Unità e solidarietà dal Vangelo, la luce per il mondo del lavoro, la riflessione del Vescovo che ha celebrato il precetto pasquale alla Espa di Moconesi e alla FPT e Tec di Ne. Benvenuti a Lui Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della Diocesi di Chiavari. Nella solennità di Pentecoste la nostra Diocesi ha avuto la gioia di accogliere un nuovo sacerdote, Alessandro Cavallo, 32 anni, originario della parrocchia di San Pietro di Novella, a Rapallo è stato ordinato presbitero per l'imposizione delle mani del Vescovo Monsignor Alberto Tanasini nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Grande la gioia da parte dei familiari e di tanti amici che hanno voluto condividere questo momento con lui. Alessandro ha studiato nel nostro seminario diocesano, presta attualmente servizio nella parrocchia di San Giovanni Battista a Chiavari. Il Vescovo ha firmato la sua nomina vice parroco di questa comunità. Vediamo. Alessandro Cavallo è stato ordinato sacerdote in una cattedrale gremita, in un raccoglimento composto e nel corso di una celebrazione semplice ed essenziale, un po' come il giovane sacerdote di poche ma efficaci parole, fedele nelle amicizie, radicato nella storia familiare e di fede che ha generato la sua vocazione. Il Vescovo Alberto Tanasini ha ricordato nell'Omelia questa essenziale verità, che la chiesa ed il presbiterato sono generati appunto dalla risposta alla domanda di Cristo, mi ami tu. Nella solennità di Pentecoste la riflessione del pastore della diocesi ha insistito sul potere trasformante dello spirito e sul dono di un nuovo sacerdote. Ogni giorno della sua vita sarà una risposta a questa richiesta di amore del Signore. una richiesta di amore che non è soltanto nel rapporto personale tra Lui e il suo Dio, ma è nel rapporto personale con i fratelli. Perché il comandamento che noi dobbiamo osservare, se lo amiamo, è quello di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato. Ogni parola che dirà al fratello, alla sorella, ogni gesto che compirà sarà un dire che ama Cristo e lo ama tanto da essere strumento dell'amore di ciascuno di noi. Il Vescovo, a conclusione della celebrazione, ha chiesto a tutti i fedeli di pregare per il dono di nuove vocazioni. Ad accompagnare Don Alessandro in questa giornata la famiglia, il Papa Angelo, la mamma Giuliana, i fratelli e i nipotini e tanti amici. Un'emozione grandissima oggi. Sì, soprattutto la felicità. Vedere la faccia di Alessandro ti si spalanca al cuore. E poi capisci che questa roba è proprio per tutti. Cioè lui è lì con questa forma che Gesù gli ha dato, però noi siamo tutti... Ed è una cosa proprio vera perché sennò non avrebbe senso tutto questo affetto, diciamo. C'è tantissima gente. Sì, vabbè, diciamo che il fatto di essere stati nelle varie parrocchie, oltre ad essere una cosa bellissima per loro, perché proprio diciamo che è il cristianesimo, come dice il Papa Francesco, da campo. E poi comunque si creano dei rapporti, dei legami che ti accompagnano e ti aiutano, diciamo. Cosa ti ha colpito di più in questi anni in cui Alessandro studiava? Diciamo il fatto che lui, essendo una persona che ama tantissimo l'indipendenza e l'autonomia, comunque si è fatto forgiare anche nel fatto di dover stare a delle regole, a degli orari, in un posto dove assieme degli altri si cresceva assieme e così. La cosa lì mi ha colpito. E' diventato un uomo, cioè si vede proprio che è pronto. E comunque anche il fatto di imparare ad accettare e vivere anche secondo uno stile che magari vorresti tu. Ecco, questa è una cosa importantissima per tutti. E un po' di anni fa, quando ti ha detto che voleva entrare in seminario, tu cosa hai provato, cosa gli hai detto? Aspettavo solo che dicesse che cosa voleva fare, perché io avevo capito che lui era preso da Gesù. Non sapevo la forma. Avrei pensato più forse il Memories perché mi sembrava che a lui piacesse insegnare. Allora pensavo che magari per poter fare quel lavoro lì, magari uno doveva scegliere una vocazione di tipo diverso. Però invece ha scelto questa cosa che mi ha stupito tantissimo, però ho pensato che era quello che gli era stato chiesto. Perché mi sembra che lui è un tipo che aderisce proprio a quello che gli viene chiesto, come umanità diciamo. Ed è una cosa bella questa. Dicono che quando un figlio diventa sacerdote viene proprio donato alla chiesa, in qualche modo lo si perde del tutto. Ecco, tu la vivi così? Guarda, per fortuna sono cresciuta in un'esperienza in cui veramente ho imparato da subito che tutto quello che hai è un dono. E quindi, come dire, il dono lo dividi. E comunque stamattina dicevo al retore che la cosa che mi colpisce tantissimo dell'aspetto della funzione, della celebrazione, è proprio quando vedi che chi è diventa sacerdote per sbitero, come dire, va a salutare tutti i suoi confratelli. C'è questa imposizione delle mani e l'abbraccio e tu lì capisci proprio che questa persona entra nella chiesa, no? In un modo che tutti possono vedere. Ecco, questa è una cosa bella. Ma che sia rimasto lo stesso non te lo posso dire. Cioè, un cambiamento è evidente. A me ha sempre colpito in lui e che ho visto crescere proprio intanto in questo periodo l'attenzione alla persona, no? Questo aspetto qua è sempre stato per me una testimonianza, mio fratello. E in questa cosa qua l'ho visto sicuramente crescere. Poi è cambiato in altre tante cose in cui magari uno è educato, fa fatica all'inizio, in queste cose è cresciuto, eh? E niente, questa cosa mi ha colpito molto. Fra gli amici alcuni ragazzi speciali. Quando ha cominciato a venire a casa nostra, a incontrarsi con Raffaele, è stata subito una sintonia. Poi dovevamo andare a fare una vacanza, no? Una vacanza in montagna. E mi avevano proposto lui come aiutante. Lui si era proposto di aiutarmi con Raffaele. Però a me mi sembrava piccolo per poter gestire Raffaele, che era più grande di lui, su una sedia. E anche con difficoltà motorie gravissime. E allora ho chiesto un altro ragazzo. Allora lui si è affiancato a Fabio, che è un ragazzo anche lui disabile, meno grave, che però cammina, eccetera. E' nata un'amicizia tra Fabio, Raffaele e Alessandro particolarissima. Allora hanno cominciato a venire subito a casa nostra e a portare i ragazzi in casa. E aiutare anche noi adulti in questo cammino con ragazzini che hanno difficoltà proprio a inserirsi nelle compagnie normali. Anche se hanno una serie di loro doni enormi, no? E' come se lui scorgesse i doni, no? E gli portava sempre tantissima gente in casa. Per cui loro hanno cominciato a venire sempre lo stesso giorno, il venerdì, ed erano fedeli a quel momento lì. E ogni volta che Raffaele cresceva, quell'esperienza lì non andava più bene. Tipo lo portavano a San Pietro, prima al catechismo, poi ai giochi, ma poi rimanevano solo dei bambini. E allora Alessandro si rendeva subito conto che quell'amicizia lì non bastava più. E creava sempre nuove forme. Ma aveva proprio un'inventiva, aveva questa capacità proprio di gioia di portare. Alessandro, confesso che appunto ci siamo conosciuti in questo anno, non prima. Di lui mi ha colpito e non soltanto a me, credo a tanti della comunità di San Giovanni e credo anche a tanti altri che l'hanno conosciuto nelle precedenti parrocchie, dove ha prestato il suo servizio. La sua grande capacità di entrare in relazione con gli altri, con gli adulti, con i giovani, con i bambini, con i più piccoli. È una cosa bella di Alessandro che è facile avvicinarlo. Non ci sono filtri, non ci sono dei pregiudizi da superare. E sento che questo è il modo con il quale appunto è entrato nella comunità di San Giovanni. E lei è un vice parroco, invece cosa chiede? Credo a tante cose, però no, a parte gli scherzi. Ma innanzitutto gli vorrei chiedere di condividere la vita della parrocchia. Non tanto di un... Poi certamente che nella vita parrocchiale ci sono tante cose da fare, ma prima di tutto condividere. Condividere la preghiera, condividere l'ascolto della parola di Dio innanzitutto. Poi condividere dei sogni, dei progetti. Sì, sento che questa è la prima cosa che mi piacerebbe proporre e chiedere a Don Alessandro. Per lui due cose sono state significative. L'esperienza di caritativa. Ho visto sempre una spiccata, come dire, tensione. Cioè, questo suo modo di stare vicino agli anziani o ai ragazzi disabili. Adesso, rileggendo quello che ho visto in tanti anni del passato, mi viene in mente l'affermazione che fa spesso Papa Francesco. Che noi, nell'ammalato, nell'anziano, nel disabile, tocchiamo la carne di Cristo. Io non so se a lui avesse questa coscienza. Però, come dire, lo viveva in maniera tale che oggi mi fa pensare a questo. Che per lui quell'esperienza lì sia stata significativa. Poi direi anche, come dire, l'incontro con la comunità. Cioè, lui, me lo ricordo, dalla prima elementare in avanti, come dire, ha sempre camminato insieme in comunità, ha partecipato sempre a tutto. Ha vissuto tutte le sue stagioni, fino anche all'età dell'università, in cui ha preso coscienza di quell'incontro che per lui è avvenuto nei primi anni delle medie, nei primi anni delle superiori. Poi mi colpisce questa scelta che ha fatto perché mi fa venire in mente adesso, siccome glielo dirò il giorno della prima messa, quindi posso anticiparlo, mi fa venire in mente in un dialogo che avevo avuto con lui quando lui aveva iniziato la quinta liceo scientifico, fa venire in mente che finita una messa, eravamo a Firenze, lui mi ha detto, adesso non ricordo bene le parole, ma ricordo, come dire, lo struggimento con cui gli diceva. Gli diceva, ma capisci che il mondo ha bisogno dell'annuncio del Vangelo? Come dire, questa sua affermazione, ma soprattutto adesso le parole non me le ricordo bene, ma il senso era quello, ma questa sua affermazione, accompagnata proprio da uno struggimento, mi ha fatto sempre pensare, come dire, che lui, come dire, ha dentro l'idea che la vita cristiana è missione, cioè, e dare agli altri gratuitamente quello che lui gratuitamente ha ricevuto. Ogni volto incontrato nel movimento di Comunione e Liberazione, nel servizio alle parrocchie, nell'amicizia semplice di questi anni, sarà ora un aiuto inestimabile per il cammino nel sacerdozio. Perché hai scelto l'immagine del Cristo di Rio de Janeiro per la tua ordinazione presbiterale? Perché, per la frase, perché la frase che c'è sull'immaginetta è chiamai l'uomo che di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi. E quell'immagine lì mi piaceva perché visto così di spalle è come quasi se volesse abbracciare abbracciare la città, abbracciare la città e il creato. E mi piace che sia una foto, perché di solito si usano molto quadri, queste cose qua. Mi piace che sia una foto perché la foto è come se una persona fosse riuscita a vedere un punto di vista della realtà che parla, che dice qualcosa di più. E quindi mi piaceva mettere una cosa del genere. Per te in questi anni qual è stato l'abbraccio decisivo? Non è uno. È difficile rispondere a una domanda così perché non è uno. È proprio una storia. Penso alla mia parrocchia di origine, i miei amici, la mia famiglia. Penso anche tutte le parrocchie dove sono passato. la parrocchia di Casarza, la parrocchia di Lavagna, poi ora San Giovanni. Non è un solo abbraccio. Sono tanti, per cui sono stati tutti decisivi. Perché sono stati decisivi ognuno in quel momento lì. Però non saprei riassumerlo in uno. Sarà sicuramente un periodo molto intenso di saluti, di abbracci, di festeggiamenti. Poi inizierà ovviamente il ministero vero. Di quale aiuto pensi di avere bisogno? Quale sarà l'aiuto che chiederai di più ai tuoi amici, alla tua famiglia? Non lo so, onestamente. Poi io sono uno che fatica a immaginare tanto in anticipo. Però no, una cosa che mi viene da dire è un ritorno. Perché uno deve imparare a fare delle cose che non ha mai fatto e non sa fare. E non ti rendi neanche conto di come le fai, per cui forse la cosa più bella che mi può capitare è trovare della gente che mi dà un ritorno a delle cose che faccio, che mi aiuta a crescere, che mi aiuta a guardare le cose che faccio dove sbaglio, dove penso sia quello un po' l'aiuto che mi verrebbe ora da chiedere. Poi vediamo. Poi magari quando arriva me ne pento. Non so. Però per ora è così. E nella solennità di Pentecoste sono state annunciate nuove nomine che riguardano le parrocchie della Val Fontana Buona. Vediamo. Il Vescovo ha provveduto alla nomina dei parroci in alcune comunità parrocchiali della Fontana Buona rimaste vacanti. L'annuncio è stato dato nelle messe vespertine e in quelle domenicali nella solennità di Pentecoste. A seguito delle dimissioni per raggiunti limiti ed età del parroco di Cicagna, Dezzerga e Serra, Don Mario Multedo, e della necessità di provvedere in modo stabile alla cura pastorale delle comunità parrocchiali di Aveggio, Certeno e Liromaggi, attualmente rette da un amministratore parrocchiale, ovvero Prete Rinaldo Rocca, il Vescovo Alberto Tanasini ha nominato Don Marco Gattorna, parroco delle comunità di Cicagna e Dezzerga. Don Marco manterrà la cura pastorale delle comunità di Orero, Pianezza e Soglio. Don Salvatore Bizimana, parroco di Aveggio, Certenoli e Romaggi, e delle comunità di Canevale e Coreia Ligure. Don Salvatore lascerà le comunità di San Giacomo e della Rosa Santa Margherita Ligure, dove gli subentrerà Don Federico Picchetto come aiuto pastorale. Don Guido Perazzo, infine, diventerà parroco nella comunità di Serra, mantenendo la cura delle comunità attualmente affidategli, ovvero Barbagelata, Cornia, Mocconesi Alto e Mocconesi Basso. Il desiderio del Vescovo è che prosegue il cammino di comunione e sinodalità già avviati in questi anni nelle diverse parrocchie del vicariato. Don Bizimana entrerà a far parte del presbiterio di Cicagna. Gli avvicendamenti pastorali avverranno a settembre. Nel mese di luglio il Vescovo incontrerà le comunità parrocchiali coinvolte dai cambiamenti. Successivamente si studierà un nuovo calendario delle celebrazioni domenicali, coinvolgendo le comunità anche attraverso i consigli pastorali parrocchiali ed ambito. Si è svolto a Chiavari un primo incontro fra enti ed istituzioni per trovare il modo per sensibilizzare tutto il territorio nei confronti degli urgenti lavori di consolidamento della struttura che sono necessari per la cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Un intervento molto oneroso che è stato iniziato proprio negli ultimi mesi e che sarà portato avanti nel corso dei prossimi anni. Un intervento per il quale è necessaria la collaborazione e anche l'aiuto concreto da parte di tutta la realtà del Tiguglio. Un primo passo di sostegno alla cattedrale? Beh, mi pare che questa mattina sia stato fatto. Sono intervenuti il vescovo, il sindaco, il dottor Pettinaroli del secolo, la Confindustria, Confcommercio e una serie di istituti di credito che hanno partecipato a questo momento e quello che è emerso e quello che mi ha reso anche fiducioso è la buona disponibilità di tutti i partecipanti. Si è capito, direi quasi, dandolo per scontato, l'importanza dell'attenzione che è dovuta alla cattedrale dal punto di vista culturale, religioso, sociale, puristico e questo identitario per Chiavari tutta la sua storia che ha segnato anche la nascita di Chiavari, lo sviluppo di Chiavari e in questo senso qua si è vista la disponibilità, la comprensione da parte di tutti i partecipanti. L'idea è quella di rivederci e di pensare a un gruppo lavoro. Sì, esattamente. Dopo le feste di luglio certamente incontreremo di nuovo i partecipanti all'incontro di oggi con i quali vedremo di mettere in piedi delle proposte, delle opportunità per dare conoscenza e concretezza diciamo economica e conoscenza anche turistica direi quasi per fare il lavoro che abbiamo cominciato a fare cioè mettere insieme tutto quello che è necessario perché la cattedrale torni nel suo, per quanto è possibile, splendore. Un incontro a sostegno della cattedrale. A seguito di una lettera firmata da me e dal Vescovo di Chiavari oggi si è riunito presso la sede del seminario Vescovile tutti gli istituti di credito presenti nel nostro territorio per sensibilizzare la popolazione e gli istituti di credito sulle problematiche strutturali che ha la cattedrale di Chiavari la cattedrale al di là della fede di ognuno di noi rappresenta un bene di tutta la comunità è anche un'attrattiva turistica ogni qualvolta noi singoli cittadini io per primo vado in un'altra città vado sempre a vedere i luoghi di culto perché sono delle opere importanti per cui siamo partiti da questa riunione interlocutoria ci siamo prefissati un ulteriore incontro dopo le festività di luglio per istituire un comitato tecnico per sensibilizzare la popolazione su questo tema un imprenditore che opera nella nostra zona ha finanziato il primo loto da oltre 400.000 euro però gli interventi da realizzare sono ulteriori è stato un buon inizio anche se è un momento difficile però questo cuore che diceva lei Sinago mi sembra che si sia respirato questa mattina con i presenti la crisi economica si riflette anche in parte sugli istituti di credito alcuni presentano dei momenti di difficoltà però da oggi si è percepito la sensibilità anche ci sono le banche del territorio che sono soprattutto due ma vi sono anche altre banche che hanno una filiale però si sentono essendo operatori del nostro territorio da oltre 15 anni parte integrante del nostro tessuto economico sociale per cui vi è stata una comunione di intenti da parte di tutti gli istituti di credito soprattutto per divulgare la notizia attraverso i propri clienti esatto vi sono anche dei benefici fiscali sia per coloro che faranno delle donazioni come persone fisiche ma anche per le imprese contiamo con un'efficace comunicazione di sensibilizzare e ottenere il risultato che la nostra cattedrale ottenga finalmente il restauro che merita sono anche stato in contatto con il ministero dei beni culturali e anche alla sovrintendenza per sollecitare tutti questi interventi unitamente dal consigliere regionale l'uomo cerca la pace e la trova in Dio è questo il messaggio che il vescovo della diocesi di Chiavari Monsignor Alberto Tanasini ha lasciato ai fedeli in occasione della festa liturgica di Sant'Antonio da Padova celebrata come sempre nella chiesa santuario di Sant'Antonio in via San Francesco a Chiavari secondo un'immagine molto bella Antonio ci invita a riflettere sul mistero della nostra vita per non essere sbalottati da qualunque evento di dottrina in un'epoca di relativismo e false ideologie è l'esempio di Sant'Antonio da Padova maestro di fede e padre della chiesa a indicarci la strada per dare un senso alla vita dell'uomo lo arriva dito il vescovo Monsignor Tanasini che al santuario dedicato al santo guaritore ha presieduto la Santa Messa in sua memoria è il Vangelo a guidare i passi del francescano l'uomo, metafora del mondo in cammino è sempre in movimento combattuto tra le soddisfazioni e le difficoltà nel passare dall'est della sua nascita all'ovest della sua morte in realtà ha spiegato il pastore della diocesi riprendendo il pensiero di Sant'Antonio quello che cerca l'uomo è la pace e dove trova la pace? dice Antonio l'uomo dove la trova davvero la pace? in Dio il luogo della pace dell'uomo è Dio noi siamo chiamati a riposare in Lui Egli è il nostro riposo non in altri beni non in altri interessi ma in Lui finché non abbiamo raggiunto Lui il nostro cuore sarà agitato sarà tormentato e solo nel guardare alla prospettiva della morte ha continuato Monsignor Tanasini l'uomo riesce a dare il reale valore alla vita così in mezzo alle difficoltà o alle gioie della vita sarà possibile trovare quella pace del cuore a cui mirava Sant'Antonio ci aiuti davvero Sant'Antonio ad avere questa visione della nostra vita che è una visione bella gioiosa seria e allora penso che troveremo davvero la pace del cuore che cerchiamo è stata inaugurata alla Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno e resterà allestita fino al 28 di luglio una esposizione di arte contemporanea di Esther Pasqualoni una mostra che vuole porre in dialogo l'arte contemporanea appunto con l'architettura medievale propria del nostro territorio ed è per questo che per l'inaugurazione dell'esposizione è stata scelta appunto la Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno Preludio questo il titolo dell'esposizione perché questo nome? perché si tratta del primo tassello di un progetto più ampio che coinvolgerà nel mese di settembre anche le altre realtà gli edifici sacri di origine medievale che sorgono sul nostro territorio ed in particolare sul monte di Portofino dove a loro volta saranno installate opere di Esther Pasqualoni l'inaugurazione è stata anche l'occasione per offrire a tutti i presenti un momento di musica di contemplazione e di riflessione vediamo siamo qui nella splendida cornice della Basilica dei Fieschi di Cogorno insieme a Esther Pasqualoni artista romana ma ormai tigullina da adozione ci teniamo a vantare questo talento oramai quasi di casa nostra e ci troviamo qui per un preludio ci vuole spiegare di cosa si tratta? sì questa è l'anticipazione che apre un progetto che si chiama Donum percorsi d'ante contemporanea nei luoghi del sacro è un progetto che comincia appunto qui con questo preludio con quest'anteprima in questo meraviglioso posto non poteva essere migliore cioè la Basilica dei Fieschi e poi si completerà a settembre-ottobre sul monte di Portofino in tutti e cinque siti sacri di origine medievali disseminati appunto sul monte è un percorso di arte contemporanea nel quale io creo delle installazioni con le mie opere che siano in dialogo di valorizzazione reciproca fra l'opera e il luogo oggi ci saranno anche delle sorprese che finora lei ha tenuto custodite gelosamente nel segreto ci vuole svelare che cosa avverrà qui oggi pomeriggio a parte appunto l'inaugurazione di questo preludio sì abbiamo pensato che essendo questo appunto uno spazio speciale non una galleria ma uno spazio sacro per la comunità per le persone e questa esperienza abbastanza innovativa almeno qui nel tigullio cioè quello di parlare e mettere in dialogo appunto arte contemporanea con questi spazi così identificati come spazi sacri abbiamo pensato di donare come dice il titolo della mostra Donum alle persone e alla comunità un momento contemplativo introduttivo con un brano musicale di Arvo Part dal nome Spiegel in Spiegel ecco e a chi non avrà la fortuna di partecipare oggi pomeriggio all'inaugurazione vera e propria che cosa lasciamo come sorpresa sì la mostra continuerà fino al 28 luglio qui in Basilica e poi appunto a settembre inaugureremo sul monte di Portofino se non sbaglio però il progetto Donum rientrerà anche nel progetto di un festival quale? sì con grande grande gioia il progetto Donum è stato inserito nella programmazione del festival della comunicazione di Camogli che quest'anno vede come titolo come tema la civiltà quindi diciamo assolutamente inerente a quello che noi cerchiamo di proporre e quindi appunto è stato inserito e sarà presente nella programmazione Giuliana Argeri già sovrintendente ai beni storici artistici della Liguria qui in questa veste di Angelo Custode di questo progetto estremamente innovativo in un contesto storico di indubbia bellezza sì Angelo Custode è una bella espressione mi piace perché qui io non ho avuto un ruolo particolare perché c'è un curatore della mostra però siccome conosco bene il territorio e in questa chiesa quando ero in sovrintendenza avevo fatto anche degli interventi ho un po' aiutato ecco a cogliere lo spirito di questo edificio che è veramente uno dei più importanti della Liguria e questa unione di arte contemporanea quindi molto concettuale e questo tesoro che la storia ci ha regalato come lo vede come lo giudica? Io lo vedo molto bene perché l'arte contemporanea a me piace molto perché viviamo nell'oggi e quindi non possiamo non guardare quello che succede oggi ed è interessante proprio perché le opere di oggi e l'opera di ieri possiamo dire si rispecchiano a vicenda e si valorizzano a vicenda in una dimensione concettuale che è molto forte sia nell'opera contemporanea ma anche molto forte nella struttura architettonica antica Ci vuole raccontare di che cosa si tratta? Si tratta di un progetto ambizioso di arte contemporanea che ha voluto cominciare proprio in questa meravigliosa sede della Basilica di Fieschi per poi proseguire nel mese di settembre in cinque luoghi all'interno del Parco del Monte di Portofino quindi altri cinque luoghi storici dove l'artista Esther Pasqualoni collocherà delle opere come in questo caso delle opere molto rispettose della sacralità dei luoghi perché lei lavora con dei materiali particolari con un'attitudine particolare al luogo al luogo antropologico al luogo storico con degli elementi che fanno riferimento al sacro e quindi il sacro è l'elemento che legherà tutto questo progetto oltre questo ci sarà anche il fatto che tutti questi luoghi sono raggiungibili a piedi e quindi all'interno di percorsi nella natura e la natura è un altro elemento che è caro a Esther Pasqualoni quindi vari elementi che coincidono in questo progetto ambizioso perché sarà un progetto molto interessante che per la prima volta coinvolgerà sei cinque più uno questo sei luoghi del sacro in Liguria quindi si può dire che l'artista si fa tra di union fra il passato e il moderno perché come diceva lei questo senso del sacro e dello spirituale che si unisce luogo storico a arte molto concettuale molto contemporanea assolutamente l'arte è una soglia lo sappiamo verso l'invisibile verso lo spirituale ed è qualcosa che ci permette di godere diciamo in senso estetico in senso intimo anche più spirituale dei luoghi nei quali l'opera viene collocata certamente Esther Pasqualoni si colloca all'interno di una tradizione che è quella appunto concettuale di Fontana di Nagasawa di tanti artisti che proprio all'interno dei luoghi sacri hanno una storia hanno fatto una storia pensiamo ai luoghi del sacro anche recentemente per esempio il duomo di Reggio Emilia o attualmente a Livorno Nagasawa proprio è stata collocata una colonna insieme a Pascali all'interno di una chiesa quindi continuamente l'arte si relaziona con questi luoghi che sono luoghi dove appunto l'arte nell'antichità era prediletta era nei luoghi proprio dell'arte quindi in questo tempo contemporaneo molto rumoroso questo progetto è un progetto che fa riferimento anche al silenzio alla meditazione alla contemplazione perché attraverso la bellezza di queste opere antiche e moderne si può davvero raggiungere una dimensione estetica ma proprio trascendentale tutto questo in questa contemporaneità così convulsa qual è il messaggio ancora che l'arte può dare il messaggio è quello che l'arte comunque va verso un silenzio in questo caso ma non è un silenzio rispetto al rumore l'arte è sempre collocata all'interno di un mondo però oggi l'arte fa molto rumore perché è legata alla pubblicità al design che è un'altra arte importantissima a tante altre cose però forse c'è bisogno che ogni tanto ci siano delle pause di silenzio e l'arte che non sia assolutamente l'arte non deve stare nell'eremo nella torre d'avorio e l'artista non è mai slegato dal mondo è sempre dentro il mondo però deve essere sempre anche un momento appunto come in questi casi in cui ci si confronta col sacro un momento intimo interiore spirituale in cui diciamo respirare un silenzio dico proprio respirare perché è una questione fisica proprio respirare il silenzio come c'è appunto spesso dicono anche i grandi maestri dell'arte respirare l'ombra respirare il silenzio respirare queste cose proseguono gli appuntamenti che Monsignor Alberto Tanasini dedica ai luoghi di lavoro del nostro territorio per la celebrazione del precetto pasquale recentemente il vescovo si è recato in due realtà importanti per altrettante vallate del territorio ed in particolare in Val Fontana Buona a Muconesi ha celebrato l'eucaristia all'ESPA mentre in Val Graveglia ne ha celebrato l'eucaristia alla FPT e TEC mi ami tu la domanda che Cristo pose per ben tre volte a Pietro risuona ancora oggi nella Chiesa anzi ne è il fondamento lo ha ricordato Monsignor Alberto Tanasini celebrando l'eucaristia alla TEC e alla FPT di Ne la tradizionale celebrazione del precetto pasquale è stata occasione per una riflessione su cosa sia la Chiesa una istituzione un'associazione un insieme di riti prima di tutte le regole prima di tutti i riti prima di tutto le dottrine annunciate prima di tutto c'è questa domanda mi ami? ecco questo è il fondamento di tutto perché se allora posso rispondere sì signore tu sai che io ti amo allora scopriremo il vero la vera natura della vita della Chiesa la celebrazione si è svolta nella sede delle due aziende TEC con i suoi 15 dipendenti e FPT che ne conta 20 le due attività sono strettamente interconnesse sono due realtà la TEC che fa produzione meccanica sia conto terzi e prodotti meccanici per FPT FPT invece realizza un suo prodotto che un suo prodotto finito che commercializza in tutto il mondo siamo 15 dipendenti circa 15-16 dipendenti in TEC e in FPT siamo una ventina quindi complessivamente siamo 35-40 dipendenti che impiego hanno i prodotti che qui vengono realizzati? allora i prodotti che vengono realizzati sono prodotti oliodinamici ad alta pressione come FPT ovviamente e vanno a finire nella componentistica degli offshore e piattaforme petrolifere in mezzo al mare e anche viadotti ponti tutte queste cose dove l'oliodinamica è all'ordine del giorno che situazione c'è per il mercato? allora il mercato mercato insomma complesso ci sono delle difficoltà e tutti i giorni dobbiamo scontrarci con delle difficoltà di mercato e ci proviamo e insomma ce la battiamo ecco non è non è una situazione erosia però ci stiamo dando da fare ci rimbocchiamo le maniche come si suol dire e insomma i risultati li otteniamo i prodotti che qui vengono realizzati dove arrivano? in che parte del mondo il mercato è sempre quello italiano? no in tutto il mondo commercializziamo in tutto il mondo sicuramente maggiormente in Italia ma anche in tutto il mondo soprattutto i paesi nordici quindi come Norvegia Svezia Finlandia Regno Unito Un invito un invito a realizzare il progetto che il Signore ha sulla vita di ciascuno lo ha formulato Monsignor Alberto Tanasini celebrando l'Eucaristia alla Espa di Moconesi una delle aziende che da anni accolgono il Vescovo della Diocesi di Chiavari per la celebrazione del precetto pasquale Espa che produce trasformatori e componenti magnetici ha al suo attivo una quarantina di dipendenti diciamo che è un momento abbastanza positivo rispetto agli ultimi tre anni che non sono stati dei migliori però quest'anno c'è stata una situazione abbastanza positiva sta praticamente seguendo sul positivo molto tempi difficili ma ci sono delle speranze delle positività che nell'anno scorso negli anni passati non si ravvedevano Quanti sono i dipendenti che trovano lavoro in questa azienda? I dipendenti anche nonostante tutto che abbiamo avuto degli anni difficili sono sempre gli stessi siamo sempre una quarantina di persone Una realtà importante per la Val Fontana Buona resta radicata sul territorio e qui i lavoratori della valle trovano lavoro Sì non solo della valle perché abbiamo anche delle presenze che vengono da fuori dalla valle qualche persona arriva anche da Genova va bene Sestilevante Chiavari eccetera però la maggior parte sono tutte persone dalla valle Ricordiamo che cosa produce l'ESP Sì produciamo trasformatori speciali i componenti magnetici in generale tutti i trasformatori industriali per scopo diciamo petrolchimico per scopi diciamo di centrali nucleari e tutti i trasformatori impiegati in centrali nucleari con un'altra tecnologia è un'altra diciamo caratteristica che ti porta ad avere delle certificazioni tutte particolari per poter ricostruire nella sua riflessione mutuata dalla liturgia del giorno il pastore della diocesi ha poi sottolineato l'invocazione di unità formulata da Cristo poco prima della sua passione e non solo in quanto armonia ma in quanto espressione della più profonda unità del padre con il figlio la divisione ha spiegato monsignor Tanasini espressione del peccato l'unità viceversa non è massificazione ma amore questa azienda quando funziona quando tutti si è uniti perché se ognuno fa per conto suo se ognuno vuole prevalere sull'altro se c'è un odio un bisticcio tutto va a catafascio dunque vale anche per l'esperienza umana questo impegno di unità di solidarietà che momento è questo con il vescovo della diocesi in visita alla fabbrica? beh diciamo che ormai sono parecchi anni non mi ricordo quanti ma saranno almeno come minimo una quindicina d'anni o qualcosa del genere che tutti gli anni facciamo questo piacevole incontro e spero di poterlo fare ancora nei prossimi tanti anni e un nuovo appuntamento con l'eucaristia celebrata nei luoghi di lavoro si terrà martedì prossimo al consorzio Tassano per la celebrazione appunto del precetto pasquale la nostra diocesi domenica prossima avrà la gioia di accogliere un nuovo diacono permanente Giovanni Ranieri sarà ordinato diacono dal vescovo Monsignor Alberto Tanasini nella sua parrocchia di Sant'Antonio a Sestri Levante la celebrazione dell'eucaristia avrà inizio alle 10 e coinciderà con la festa appunto di Sant'Antonio titolare della parrocchia ricordiamo gli altri appuntamenti in programma per quella giornata nella comunità parrocchiale Sestrese le sante messe saranno celebrate anche alle 8 e 30 alle 12 e alle 18 e 30 alle 21 dopo il canto del Vespro la processione terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con noi chiesa al nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari grazie per averci seguito ci rivediamo la prossima settimana grazie a tutti Grazie a tutti.